Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo e analizziamo un episodio famosissimo del giorno di Parini, ovvero la Vergine Cuccia. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Come abbiamo detto nella lezione dedicata al giorno, che vi lascio qui, i protagonisti della vicenda sono il precettore d'amabil rito e il giovin signore. Ma qui si aggiunge un altro personaggio, l'amante del giovin signore, ovvero la dama, una donna sposata di cui il giovane rampollo è il cavaliere servente e che lo attende per un ricevimento. Possiamo dire che il giovin signore sia una sorta di cicisbeo della dama. Il termine cicisbeo è onomatopeico, rimanda probabilmente al termine chiacchiericcio perché aveva il giovin signore, in questo caso, ma anche cicisbeo, il compito di stare al fianco della dama, farle compagnia e servirla. A metà del pomeriggio, dunque, il giovin signore va dalla sua dama per un banchetto ed è colpito dalle prelibatezze che gli si presentano davanti. E sempre in questa parte del giorno, in questo caso, naturalmente, parliamo non più del mattino, ma del mezzogiorno, dato l'orario, che troviamo la favola del piacere. Infatti, la ricca tavola imbandita denuncia una grande verità. I ricchi si cibano per piacere e non per necessità. Questa considerazione introduce proprio la favola del piacere, perché un tempo gli uomini erano tutti uguali e si alimentavano per sopravvivere, ma questa uniformità non era gradita agli dèi che mandarono tra loro il piacere. Coloro che avevano organi più nobili e sensibili furono in grado di apprezzare i piaceri, quindi la nobiltà. Quelli che avevano organi meno sensibili continuarono ad obbedire solo al bisogno, dando origine alla plebe. Dopo questa digressione, nel mezzogiorno, i convitati discutono sui più disparati argomenti. Uno degli invitati è vegetariano e guarda con disgusto la carne, perché ha pietà delle povere bestie uccise per soddisfare l'appetito degli uomini. Ed è qui che troviamo l'episodio della Vergine Cuccia. La dama scoppia in lacrime e ricorda quando la sua cagnolina ha morso un servitore, il quale ha ragito dando un calcio all'animale. Or le sovviene il giorno, a ferro giorno, allora che la sua bella Vergine Cuccia delle grazie all'unna, giovanilmente vezzeggiando, il piede villan del servo con le burne o dente segnò di lieve nota. Ed egli, audace, col sacrilego pie, lanciolla. E quella tre volte rotolò, tre volte scosse gli scompigliati peli e dalle molli nari soffiò la polvere rodente. Ora la dama viene in mente, sovviene, sovvenire, souvenir, peraltro francese, io ciò che ti sovviene ricordo, il giorno ferro, il giorno crudele. Abbiamo qui un'esclamazione. Quando la sua bella Vergine Cuccia delle grazie alunna. Quindi quando la sua cagnolina, abbiamo qui una perifrasi, quindi allevata alunna, dalle grazie, dalle tre grazie, e anche un'anastrofe, vediamo perché l'ordine consueto non è rispettato, questa povera cagnolina, cucciola, no? Cosa stava facendo? Stava giovanilmente vezzeggiano, c'è stava scherzando e così per scherzo lasciò un leggero segno al piede di chi? Del villano, quindi del servitore. E questo piede, no? Viene così segnato dal dente della cagnolina e burneo, color avorio. Notiamo che il piede del servitore è un piede villano, villico, mentre il dente della cagnolina è un dente d'avorio e burneo. Quindi abbiamo qui un'antifrasi. Questo piede villano è anche un'esagerazione, naturalmente, è un'iperbole. E cosa accadde? Che costui, audace, quindi sfrontato, con il sacrilego pie, quindi anche quei iperbole, con il piede malvagio, la lanciò, la calciò lontano ed essa rotolò tre volte e ancora tre volte scosse il pelo arruffato e soffiò dalle molli, dalle morbidi narici, la polvere rodente che la irritava, quindi che provocava irritazione. Notiamo ed egli è quella, è lei, quindi questa è una polisindeto. E poi tre volte rotolò, tre volte scosse una geminazio. La Vergine Cuccia è la bella cucciolotta della dama, allevata dalle grazie e alunna, cioè nutrita, come dicevo, no? Le tre grazie, quindi, che rappresentano tutto ciò che è di più leggiadro in natura. La cagnolina osa mordere con il suo burneo dente il piede del servitore. Il servitore che ha un piede villico, villano, perché è un ineducato, ma è anche sacrilego perché ha osato calciare la Vergine Cuccia delle Grazie alunna. La cagnetta, quindi, rotola per tre volte. Notare la scelta del numero tre, che è il numero sacro, rende il tutto ancora più ironico, perché anche qui abbiamo un'antifrasi, no? Quindi è una parodia della grande letteratura del purgatorio di Dante, tre volte dietro a lei le mani avvinsi, o della Gerusalemme liberata, tre volte il cavaliere la donna stringe. Indi gemite alzando, aita, aita, paradicesse, e dalle orate volte a lei la impietosita eco rispose, e dall'infimi chiostri i mesti servi a sceser tutti. Quindi gemendo, no? I gemiti alzando, aiuto, aiuto, sembrava dicesse, e dalle aurate volte, dai soffitti dorati, le rispose eco. Quindi le rispose l'eco. In questo caso abbiamo proprio una personificazione, anche un riferimento mitologico a eco, chiaramente. Questo aita, aita, peraltro, è anche una rima interna ed è un'onomatopea. La impietosita eco rispose, quindi anastrofe, e cosa accade? Che dagli infimi chiostri, quindi dalle stanze più basse, anche qui abbiamo una metafora, i servi afflitti salirono tutti. E dalle somme stanze, le damigelle pallide, tremanti, precipitaro. Quindi anche dalle stanze più alte della casa, quindi piani alti, si precipitarono pallide e tremanti le damigelle. Notate qui, edal, eda, edale, che sono sempre dei polisindeti. Tutti accorsero, ognuno, no? Accorse ognuno. Il volto fu d'essenza spruzzato alla tua dama. Perché chiaramente sul volto vengono spruzzate le essenze alla dama che si sta sentendo male per la povera vergine cuccia. Vedete qui nella slide la ricapitolazione nuovamente delle figure retoriche. Notate anche l'iperbato, che è una figura retorica tipica in Parini, come abbiamo già detto. Aita Aita è il guaito della cagnetta, voce onomatopeica, ma anche termine arcaico, che viene di fatto ripreso dalla tradizione letteraria in funzione antifrastica. Il precettore richiama anche qui, come abbiamo detto, il mito di Eco, ninfa condannata da Giunone a ripetere solo le ultime parole che venivano a lei rivolte. La dama dunque prende delle essenze e si sente male. Ci fa pensare qui a Mirandolina nella locandiera, no? Mirandolina! Che viene fatta rinvenire grazie alle essenze. Peraltro vi lascio qui il video sulla locandiera che male non fa. Ella, chiaramente la dama, rinvenne al fin. L'ira, il dolore, l'agitavano ancora. Fulmine e i sguardi gettò sul servo e con languida voce chiamò tre volte la sua cuccia. Quindi infine riprese conoscenza e agitata dall'ira e dal dolore lanciò sguardi fulminanti, qui una metafora, sul servo e con voce flebile e languida chiamò tre volte, di nuovo questo numero tre, la sua cucciola. E questa, al sen le corse, in suo tenor vendetta, chieder sembrolle, no? Quindi le corse, no? Appresso, in grembo e nel suo linguaggio le sembrò che chiedesse vendetta. E tu vendetta avesti. Vergine cuccia delle grazie alunna. Quindi apostrofe alla vergine cuccia delle grazie alunna. Che avrà sì vendetta. Vediamo velocemente qui alcune figure retoriche e capiamo un po' tra poco quale vendetta. La dama dunque getta sguardi fulminanti, chiamasse la cagnetta, e decide di vendicarla. Notiamo quindi che abbiamo la vergine cuccia delle grazie alunna. Verso di nuovo richiamato, richiama proprio lo stile formulare. E riprende il verso 519, imita proprio questo stile, formulare caratterizzato da epiteti, formule, espressioni fisse. Basti pensare all'epica omerica. Lempio servo tremò. Quindi il servo sacrilego tremò. Antifrasi anche qui, naturalmente. Con gli occhi al suolo udì la sua condanna. Quindi guardò in basso, sapeva di essere condannato. A nulla gli valse, a lui non valse merito quadrilustre. Quindi nulla gli valse, non gli valse neppure l'impegno dimostrato nel servire per ben vent'anni. A lui non valse zelo d'arcani uffici. Quindi a lui non valse l'impegno, lo zelo nell'esecuzione di commissioni delicate. A lui non valse, quindi l'epifora, in posizione finale, la ripetizione. In van per lui fu pregato e promesso. Quindi in vano per lui fu pregato e promesso. E in nudo andonne, quindi se ne andò nudo. Ma non nudo veramente, ma spogliato di ogni cosa, è una metafora. Della sisa spogliato, quindi spogliato però anche della livrea, quindi rimane coperto di stracci praticamente. Onda era un giorno venerabile al vulco, quindi quella livrea che un tempo lo aveva reso venerabile al popolo. In van novello signor sperò, quindi in vano sperò di trovare un nuovo signore, che le pietose dame inorridiro e del misfatto atroce, odiar l'autore. Poiché le pietose dame, pietosa anche qui antifrastico, inorridirono del gesto atroce e anche dell'autore. Il misfatto atroce è un'iperbole naturalmente. Il misero si giacque con la sua squallida prole e con la nuda consorte alato, sulla via spargendo al passeggere inutile lamento. Quindi il poveraccio rimase in mezzo a una strada con a fianco i figli e la moglie privata di ogni cosa, a chiedere per strada l'inutile lamento, metafora dell'elemosina. A chi la chiede? Ai passeggeri. E tu, Vergine Cuccia, idol placato dalle vittime umane, isti superba. Quindi e tu, invocazione apostrofe, Vergine Cuccia, idolo placato, quindi divinità placata, da un sacrificio di vittime umane, incedi superba. Il servo dunque è impio in quanto ha disonorato la Vergine Cuccia, divinità. Lui ha servito per vent'anni la dama, però la sua condanna è decisa. Se ne va dalla casa spogliato di ogni bene, cerca un nuovo signore, ma nessuno lo vuole, perché ha osato comportarsi in modo sacrilego con la Vergine Cuccia. Il servitore, vittima della miseria, rimane a chiedere l'elemosina. La Vergine Cuccia allora ha la sua vendetta, va superba. Il servitore e la sua famiglia moriranno di fame. Però la Cagnetta è come una divinità, è una divinità soddisfatta da un sacrificio umano. La sua ira è stata placata. Naturalmente qui il lettore si trova davanti ad un rovesciamento, no? Il vegetariano che accusa la vana, quindi l'inutile uccisione degli animali, per soddisfare l'uomo. Ma ora il servo è annientato per avere calciato la Vergine Cuccia. Quindi passiamo dall'ironia allo sdegno. L'episodio è raccontato dalla dama, ma è caratterizzato dall'antifrasi. Alla fine del brano l'ironia si trasforma in sarcasmo e in indignazione. Infatti troviamo l'umanitarismo di Parini qui, perché lui è commosso per la sorte del misero domestico e denuncia con amarezza l'ingiustizia subita dal servo e l'arroganza di questi nobili meschini e superficiali. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!